Ma salve, siamo qui in un nuovo video, in questo video andremo a vedere l'oop pazzo che ci ha offerto Dede, Nero Neve e Suronzo La prima parte è offerta dai primi due, la seconda c'è anche lo zampino di Valerio Suronzo Detto questo, ci colgo l'occasione per dirvi che se siete interessati a vedere lo start da zero o su Tiger Ghost o su Ruby Ho fatto e ho anche detto su Instagram, quindi penso che lo sapete Che non vorrei togliere tempo al primo account e che questa serie può essere utile Perché sarebbe un riniziamo nel 2022 tutte le accortezze che ci stanno da tenere conto E le altre cose importanti che andrebbero farmate E quindi se siete interessati passate su Twitch e vi spiego cosa vi chiedo insomma Detto questo vi lascio al video Ciao 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 Grazie a tutti. 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 a tutti.